Cerimonia di scambio degli accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kyrgyzstan, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica del Kyrgyzstan, Sadir Japarov. Si ricorda che è già stata adottata una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e del Presidente della Repubblica del Kyrgyzstan. Si procede ora allo scambio degli accordi. Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kyrgyzstan. Per la Repubblica Italiana, il Sottosegretario di Stato della Giustizia, Andrea del Mastro delle Vedove. Per la Repubblica del Kyrgyzstan, il Procuratore Generale della Repubblica del Kyrgyzstan, Maksat Asanalev. Grazie. 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 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kyrgyzstan in materia di coproduzione audiovisiva. Per la Repubblica Italiana, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Per la Repubblica del Kyrgyzstan, il Ministro della Cultura della Repubblica del Kyrgyzstan, Altinbek Maksutov. Grazie. 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 La cerimonia è conclusa. Grazie. 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 Grazie.